Più telecamere di videosorveglianza e turno notturno della polizia locale. A Roseto entrano in azione i nuovi occhi elettronici e gli agenti municipali per un'estate più sicura, anche con azioni per contrastare il commercio abusivo e la movida molesta. In città è aumentata la videosorveglianza in tutti i punti più critici del territorio comunale, il rafforzamento per tutta l'estate del comando di polizia locale con l'innesto di sei vigili stagionali, a supporto di quelli di ruolo, la realizzazione della nuova tenenza della Guardia di Finanza in un grande autonomo edificio in via Fonte dell'Olmo per scongiurare qualsiasi ipotesi di delocalizzazione della tenenza stessa. Accanto a queste misure, dice il sindaco Sabatino di Girolamo, anche per quest'anno mi è stato garantito il rafforzamento dell'organico della locale caserma dei Carabinieri, baluardo tradizionale costante per la repressione dei reati sul nostro territorio. Nel frattempo sono terminati la scorsa settimana i lavori per l'installazione della videosorveglianza su altri luoghi del territorio comunale. Il progetto è stato finanziato con fondi del comune per un importo complessivo di 40 mila euro che ha consentito all'ente di attivare il servizio di videosorveglianza in molti punti sensibili della città. Le immagini saranno monitorate dal comando di polizia municipale in modo che si abbia la possibilità di estendere il controllo del territorio. Attualmente ci sono oltre 70 telecamere in funzione chiamate a monitorare i punti strategici di Roseto e delle sue frazioni. Il comune è in attesa inoltre di sapere se il finanziamento che è stato richiesto tramite la prefettura al ministero dell'interno trovi accoglimento. Si tratta di circa 100 mila euro, una cifra importante che consentirebbe di raddoppiare la rete di monitoraggio a tutte le aree comunali quali piazze, strutture sportive, scuole e in genere a tutti gli edifici pubblici.